In questi giorni Fineco sta comunicando a chi è già cliente a meno di 30 anni l'applicazione di diverse nuove agevolazioni. Vediamoli insieme! Ciao, io sono Federico e benvenuti in The New Finance. Fineco si è fatta conoscere come banca per la miglior piattaforma home banking e la miglior applicazione smartphone d'Italia. Inoltre per diversi anni ha avuto un conto a canone zero con diverse funzionalità gratuite. Nel 2019 ha introdotto però un canone anche per chi era già cliente. Canone azerabile sì ma che ha fatto storcere il naso a chi da anni era cliente Fineco. Ma il vero trauma non è stato il canone introdotto nel 2019 bensì la variazione che si è avuta nel 2015, precisamente ad ottobre. Difatti chi ha aperto il conto dopo ottobre 2015 si è visto applicare un tariffario per la compravendita di strumenti finanziari davvero costoso. Prima dell'ottobre 2015 per acquistare un'azione, un'obbligazione o un etf si pagava una commissione per millare, lo 0,19% del controvalore dell'operazione, partendo da un minimo di 2,95€ fino ad un massimo di 19€. Per i mercati esteri il costo aumentava, soprattutto investire in azioni statunitensi non era molto conveniente. Ma arriva ottobre 2015 e dall'ufficio pricing di Fineco hanno deciso che non era sufficiente e che bisognava aggravare la cosa. Si passa ad una commissione flat, 19€, sia per l'acquisto che per la vendita di uno strumento finanziario. In base al mercato di riferimento quella somma poteva variare, ma ad ogni modo era facilmente constatabile come Fineco con quella manovra intendesse favorire il risparmio gestito, quindi fondi di investimento, le polizze e le gestioni patrimoniali. Peccato che non è stato risparmio gestito a rendere popolare Fineco come banca. Arriviamo ad oggi, momento in cui Fineco ha deciso di applicare un tariffario di favore a chi è già cliente e ha meno di 30 anni, oppure a chi è nuovo cliente e ha meno di 30 anni. Vediamo in ordine quali sono le novità. A partire da gennaio 2022 verrà azzerato il canone per tutti quei clienti o nuovi clienti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Il mese di gennaio è compreso. La seconda novità riguarda i diritti fissi sui piani di accumulo avviati sulle SICAV. Questi di fatti sono totalmente azzerati, sia per il primo versamento che per i versamenti successivi. Inoltre viene applicato un piano tariffario per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari notevolmente favorevole. 2,95 per qualsiasi piastra europea, o meglio per quelle indicate nell'immagine che vedete, 3,95 per mercati americani e 10 dollari canadesi per il mercato canadese. Non so chi di voi sia interessato effettivamente a investire in Canada, ma lo può fare. Attenzione, come ho già detto, queste variazioni riguardano solo quei clienti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Inoltre l'azzeramento dei diritti fissi sembra riguardare esclusivamente le SICAV, i piani di accumulo avviati sulle SICAV. Quindi questo non riguarda i classici fondi di investimento. Spesso questa distinzione non la si conosce. SICAV o fondo di investimento è uguale, no? In realtà no. Sono due cose simili ma diverse. Nelle SICAV l'investitore acquista azioni della società. Nel fondo di investimento invece acquista le quote. Ma magari lo vedremo in un altro video. Per chi ha almeno 30 anni invece rimane in vigore il precedente piano tariffario che, ahimè, è piuttosto penalizzante. Una commissione flat che premia chi opera frequentemente con Fineco. Ma anche lì non ne capisco la logica, perché se io opero con grande frequenza non vado di certo a scegliermi una banca, ma mi rivolgo a un broker puro, come può essere ad esempio Interactive Brokers. Boh, hanno deciso così. In conclusione, per chi ha meno di 30 anni Fineco diventa l'opzione migliore. Delle commissioni basse, se consideriamo che stiamo parlando di una banca, fa dal sostituto di imposta che è una comodità non da poco, ha il miglior home banking e la migliore app sul mercato e inoltre il servizio cliente è davvero ottimo. Una volta superato questo limite di età, eh, ne riparleremo. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Io come sempre vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, cliccando anche sulla campanellina delle notifiche. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.